Salve a tutti i giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi tornerò a parlarvi del consueto appuntamento del venerdì con la serie animata The Bad Batch, che è arrivata ormai alla sua quattordicesima puntata intitolata War Mantle, Artiglio Guerriero. Un episodio decisamente più movimentato e più interessante rispetto ai precedenti e che ci catapulta con tanta azione verso il finale di stagione. Ve ne parlo nel dettaglio dopo la sigla. Molti di voi si saranno chiesti in realtà perché manchi tra le recensioni quella del tredicesimo episodio, intitolato Infestazione. L'analisi manca per due motivi principali. Il primo è che ero in vacanza in quel momento e non potevo registrare la recensione e il secondo motivo, che forse è quello più importante, è che è un episodio in cui non accade assolutamente niente. Vi giuro ragazzi, non succede assolutamente nulla, né a livello di trama orizzontale, né a livello di sviluppo dei personaggi. È un episodio ambientato totalmente su War Mantle e si basa su una missione dedicata a Seed, che alla fine della puntata non porta assolutamente alcuno sviluppo, né per la Clone Force 99 e né per la trama orizzontale di The Bad Batch. E vi ho così riassunto in 20 secondi anche il tredicesimo episodio. Ma ora passiamo a qualcosa di ben più sostanzioso, e cioè l'episodio successivo. Come vi dicevo, War Mantle è un episodio che pur mantenendo ormai la stessa identica struttura narrativa dei precedenti, riesce a dare quel quid in più. War Mantle si apre con un inseguimento su un pianeta boscoso, che nelle prime battute è sconosciuto. In questo inseguimento vediamo un soldato clone fuggire da altri soldati che lo braccano e soprattutto dai Massif, delle creature che abbiamo già visto in tante puntate di The Clone Wars e in live action nel primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian. Questo soldato clone fuggitivo viene catturato e la scena si sposta poi sulla Marauder, dove la Clone Force 99 è ancora una volta in missione per conto di Sid, ma riceve una chiamata da parte di Rex, che prega la squadra di aiutarlo a recuperare un suo compagno. Un clone molto particolare che ha come numero identificativo CC5576. In quel momento i fan più esperti o con più memoria si saranno già accorti di chi si tratta. Il clone fuggitivo non è altri che Gregor, personaggio che abbiamo conosciuto in The Clone Wars, nell'arco narrativo particolare dedicato ai droidi, e soprattutto che è ricomparso nella serie animata Star Wars Rebels, a partire dalla seconda stagione fino alla quarta ed ultima stagione. Un personaggio che insieme a Rex è molto apprezzato tra i fan di Star Wars e che tutti quanti non vedevano l'ora di rivedere, soprattutto per il fatto che rimaneva anche nei suoi confronti l'interrogativo su cosa gli fosse accaduto dopo le vicende di The Clone Wars e soprattutto come avesse fatto a resistere al chip inibitore. E parte di questi interrogativi vengono risolti proprio nel corso dell'episodio. I nostri si dirigono quindi verso il pianeta Daro, il pianeta boscoso che sembra solo all'apparenza disabitato, ma che si scoprirà essere una base segreta dell'impero, ma non una base qualsiasi, bensì un'installazione particolare che tramite Gregor scopriremo essere una vera e propria accademia per i nuovi soldati imperiali. Il titolo della puntata, infatti, riguarda il progetto War Mantle, artiglio guerriero in italiano, e cioè il progetto che puntava alla sostituzione dei soldati clone e dei soldati dell'esercito dei cloni, rimpiazzandoli con delle reclute umane volontarie. Il vantaggio di questo passaggio non stava solamente nel numero infinitamente maggiore di soldati che l'impero poteva ottenere, ma soprattutto nella cieca obbedienza e lealtà che non avrebbe avuto bisogno di un chip inibitore per funzionare. Queste sono tutte cose che, come detto, scopriremo in seguito tramite le parole di Gregor. È molto interessante analizzare alcuni piccoli passaggi visivi per quanto riguarda l'evoluzione di quelli che poi saranno gli Stormtrooper imperiali. Infatti, all'interno dell'installazione, vediamo dei soldati che posseggono delle nuovissime armature, che sono praticamente dei prototipi antecedenti alle classiche armature degli Stormtrooper che abbiamo visto nella trilogia originale. La chicca di queste armature sta nel fatto che esse sono un riferimento ad una delle prime bozze dell'artista Ralph McQuarrie, storico ed iconico concept artist che ha praticamente dato vita a personaggi e scenari della trilogia originale di Star Wars. Davvero un bellissimo omaggio. I nostri della Clone Force 99 inoltre scoprono che questi soldati hanno una designazione nuova, e cioè la designazione TK, che sarà poi quella che andrà per la maggiore all'interno dell'esercito imperiale composto da Stormtroopers. Mentre Wrecker e Omega rimangono all'interno della Marauder, Hunter, Tech ed Echo riescono a penetrare all'interno dell'installazione e soprattutto a liberare Gregor. E da questo punto in poi i nostri dovranno capire come fuggire da questo edificio. Ed è proprio in questi frangenti che Gregor ci svela tantissime chicche interessanti sul progetto War Mantle e anche su come egli sia praticamente finito in quella installazione. Come vi dicevo, quella base segreta è una vera e propria accademia di soldati, in cui dei soldati clone scelti, e soprattutto dei commando, addestrano le nuove reclute umane volontarie. Gregor era proprio uno di questi commando, che aveva il compito di addestrare la nuova leva dell'esercito imperiale. Tramite una sua battuta scopriamo anche, ovviamente, che egli è riuscito a sopravvivere all'esplosione che lo vide protagonista nell'arco narrativo di The Clone Wars e che quindi, dopo tante peripezie, finì appunto in questa installazione come istruttore. Tramite le sue parole, inoltre, possiamo capire che anche in Gregor, come in tantissimi altri cloni, il chip inibitore non aveva funzionato in maniera ottimale. Anche perché Gregor, sin dalle prime battute del suo addestramento alle nuove reclute, non aveva insegnato loro tutti i trucchetti del mestiere, per così dire. E questo è un nuovo elemento che ci fa capire due cose. O che il chip inibitore in alcuni cloni non funziona perfettamente, oppure, questo è il risvolto più interessante che abbiamo visto anche all'interno delle puntate dedicate ad Eras in Nulla, è possibile che, nonostante il chip inibisca il libero arbitrio dei cloni, essi abbiano comunque una certa libertà di pensiero e di discernimento. Ma anche questi elementi non ci vengono svelati al 100%, e quindi dovremo aspettare le prossime puntate o la prossima stagione, per avere delle risposte più certe. Durante la fuga c'è spazio per tantissimi altri easter egg interessanti. Tra i cloni che inseguono i nostri fuggitivi, possiamo vedere anche una sorpresa inaspettata, e cioè Scorch, uno dei membri della squadra Delta, l'iconica squadra protagonista del videogioco ormai Legends Republic Commando, al quale sono annesse tantissime opere cartacee davvero epiche, anch'esse però ad oggi considerate Legends. La squadra Delta era già stata canonizzata all'interno di The Clone Wars, e il fatto di aver rivisto Scorch ci fa capire che probabilmente anche l'iconica squadra di cloni Commando è in quel momento al servizio dell'Impero. Speriamo di poter rivedere nei prossimi episodi la squadra al completo. Nelle ultime sequenze dell'episodio i nostri riescono a fuggire, con una particolare eccezione, e cioè quella di Hunter. Il capo della Clone Force 99, infatti, dopo varie vicissitudini, rimane intrappolato sul pianeta, e viene quindi catturato dai soldati dell'installazione imperiale, e messo in cella. Nelle ultime sequenze dell'episodio vediamo un faccia a faccia tra Hunter e Crosshair, che ci permette praticamente di capire quelli che saranno i temi di questo scoppiettante finale di stagione. Non vi preoccupate perché non ho assolutamente dimenticato quello che è l'altro tema importante all'interno dell'episodio, e cioè la questione caminoana. Mentre infatti si svolgono le avventure nell'installazione imperiale, su camino succedono tante tante cose interessanti. Ormai il primo ministro Lamasù è consapevole del fatto che l'impero non ha alcuna intenzione di rinnovare i propri contratti con i caminoani, e soprattutto che probabilmente le intenzioni dell'impero sono ben peggiori. E per questo motivo intima la sua scienziata Nalase di fare i bagagli, raccogliere tutto il possibile e trasferirsi. Il piano dei caminoani quindi alla fine sembra essere quello di fuggire dall'impero. Prima che ciò sia possibile, però, i soldati imperiali catturano Nalase e l'ammiraglio Rempart, deluso dal comportamento dei caminoani, imprigiona la scienziata, che potrà servire e servirà sicuramente a quelli che saranno gli esperimenti di clonazione futuri, e sembra far assassinare il primo ministro da parte dei soldati. Devo dire che se la questione caminoana si chiudesse qui sarebbe abbastanza deludente, soprattutto dopo le premesse che ci erano state portate negli episodi precedenti. Infatti tutti quanti ci aspettavamo qualcosa di un po' più movimentato, un po' come accaduto negli eventi Legends della rivolta di Camino. Ma non è detta l'ultima parola, perché è possibile, in primis, che il primo ministro Lamasuno sia stato assassinato, e in secondo luogo che, nonostante la sua prigionia, la scienziata, nella sé, possa comunque organizzare qualcosa di interessante. Ma anche questo lo scopriremo nel finale della prima stagione, oppure all'interno della seconda stagione. Parlando più in generale di quelli che sono i temi della puntata, come vi dicevo all'inizio, abbiamo visto un episodio decisamente più dinamico, che, nonostante abbia ripercorso la stessa struttura narrativa, e quindi la struttura narrativa di un salvataggio, la struttura narrativa di una missione, riesce a darci quel quid in più che aspettavamo da un po'. Un pizzico di delusione deriva anche dal finale dell'episodio, perché, ormai mi sembra anche inutile ribadirlo, si è tornati ad una situazione che già conoscevamo all'interno non solo della stessa serie The Bad Batch dopo il rapimento di Omega, ma anche e soprattutto all'interno di altre serie come Rebels e The Mandalorian. E cioè un finale in cui si svolge un rapimento importante e un annesso salvataggio. In questo caso, sicuramente il finale di stagione riguarderà il salvataggio di Hunter. E devo dire che da questo punto di vista, purtroppo, questa stagione è stata abbastanza prevedibile. Quindi, nonostante le good vibes che ci ha dato questo episodio, mi auguro che, almeno per il finale, si prospetti qualche risvolto narrativo un po' più inaspettato. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa puntata e se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!